Ciao ragazzi, eccomi oggi con un nuovissimo video, come vedete nuova location perché sono in Trentino per qualche giorno e quindi vi volevo far vedere i miei acquisti fatti qui sono tre sacchettini e vado subito col mostrarveli prima però vi faccio vedere il prodotto che ho acquistato e che ce l'ho qui fuori dalle borse allora praticamente vi vorrei mostrare una crema che ho acquistato qui per il corpo, un body lotion della Ovis e praticamente è una crema idratante fatta con latte di pecora e olio di mandorle dolci questa qui è da 250 ml di prodotto se volete l'inci è qui 250 ml di prodotto per la durata di un anno dall'apertura è una crema super super nutriente, è buonissima ha un profumo di... questo è quello di prato fiorito ha una profumazione stupenda lascia la pelle veramente morbidissima e poi non unge assolutamente, assorbe in due secondi la pelle, non sentite proprio al tatto che è più morbida ho scoperto questi prodotti qui, di questa linea qui su in Trentino e vorrei consigliarveli allora i prezzi, io ho anche il listino da qualche parte non so più dove l'ho messo l'avevo, giuro eccolo e questo è il listino prezzi e vi faccio vedere che della linea appunto fiori di prato che è quella che ho preso io fiori di prato trovate il doccia shampoo il body lotion che è quello che ho io il crema a mani body butter e crema viso se prendete tutto c'è questo set totale 100 euro e nello specifico il body lotion che ho preso io costa 21 e poi trovate anche il body butter quello però con latte di peccora malva è carité da 250 ml a 26 euro e poi la crema viso questa qui costa 28 comunque questo qua fanno di questa linea anche quelli all'oliva quelli alla lavanda e anche alla canapa sempre con latte di peccora e poi c'è neanche uno alla rosa che qui non c'è con acqua di rosa comunque vado col mostrarvi gli acquisti oltre al body lotion vado col mostrarvi prima le mie cose che sono qui dentro allora ho preso me le ha tutte incartate anche se sono mie questo negozio si chiama lorenz art e mette nelle confezioni malva e varie cose profumate proprio piante di qui sono buonissime comunque lo apro perché tanto è mio e ho preso un altro body lotion uguale di scorta perché non so quando torno poi in questa piccolina così che è bellissima c'è una saponetta appunto con la fragranza che vi dicevo alla rosa della stessa linea Ovis fatta così ha un profumo veramente stupendo e quindi anche la linea alla rosa è molto buona poi vado col mostrarvi due acquisti che ho fatto da fare dei regali il primo è questo che è per mia suocera e ho fatto fare questa confezione regalo con questa aletina qui e ho messo dei fiori veri sempre delle erbe e poi all'interno ho fatto fare un cestino con incisione su richiesta con scritto un pensiero da Canazei e dall'altra parte il nome della persona dentro c'è un prodotto della linea Canapa quindi letto di pecore e Canapa ed è una crema a mani ultra idratante e veramente stupenda mi ha detto anche questa linea qui quindi ho preso una crema a mani all'interno ho messo altre piantine erbette profumate che volendo si possono anche utilizzare per fare tisane e poi c'è all'interno anche un mini cuoricino fatto a saponetta alla calendula e questo è il suo regalo poi le creme mani costano lo dico subito aspettate non c'è qua il prezzo 150 ml comunque dovrebbe costare sui 18 euro ah no sbagliato mi rimangio le parole 14 14 però quella del prato fiorito questa dovrebbe costare uguale comunque della linea la canapa c'è anche la crema viso antirughe perché è specifica per le pelli più mature la canapa l'altro invece il regalo è per mia madre ve lo mostro subito ed è sempre con la stessa idea del cestino personalizzato ho fatto scrivere alla mia mamma speciale non so se si percepisce e da questa parte è il nome di mia mamma anche qui ho preso sempre la crema a mani però quella al prato fiorito sempre 14 euro è un'ottima ottima crema veramente all'interno ho messo un sacco di cose profumate sempre da poter utilizzare anche per partisane malva poi non so cosa che ho messo menta un sacco di cose e ovviamente il bigliettino da visita un'ottima idea regalo perché appunto fa le confezioni se prendete il cestino il cestino vi costa personalizzato 6,90 euro e poi ci mettete dentro quello che volete anche qui c'è dentro una mini saponetta cuore rosa che non si vede perché è dentro alle erbette e quindi niente vi volevo consigliare la linea Ovis sia questa che quella la canapa ci sono un sacco di profumazioni ottime andate a vedere appunto se volete acquistare potete contattare Lorenz linea benessere qui ci sono appunto tutte le indicazioni la mail il cellulare potete contattare fare un ordine vi spediscono le cose l'ordine deve essere minimo di 50 euro spese forfettare di spedizione in Italia 7 euro pagamento in contrassegno con supplemento quindi se volete questi prodotti che non potete venire qui in Trentino a Canazè in centro che c'è questo negozio vi consiglio di ordinarli via mail niente un super bacione e ci vediamo con i prossimi video ciao ciao